Radiobari.com, persone speciali su Radiobari Ed eccole le persone speciali questa mattina su Radiobari Io sono molto contenta, la prima volta fisicamente, finalmente vedete la sua faccia Non è vero Si è già venuto, Michelangelo Busco, direttore artistico del Teatro Forma, buongiorno Buongiorno a voi E buongiorno, e ribongiorno a Lì Buongiorno a voi, buongiorno a tutti Uppiso Stampa del Teatro Forma Si è già venuto? Sì Davvero? Non è assolutamente la prima volta Lui è sempre qui, in realtà, c'è, lui c'è Sotto le scrivanie Pare brutto Allora, Around the Jazz parte l'ottava stagione del Teatro Forma La stagione musicale, ma non c'è soltanto quello al Teatro Forma Che ormai è diventato un po' la casa di molti artisti locali e non solo E di tante compagnie, non solo di teatro ma anche di musica Ospitiamo per esempio nel gioco del jazz La rassegna va avanti da cinque anni E diciamo che la stragrande maggioranza dei concerti che loro fanno Li portano tutti al forma Quindi diciamo che siamo la casa di tante compagnie come l'Anonima Che parte adesso a ottobre, il 15 di ottobre Ma siamo la casa, siamo stati la casa di Time Zone Siamo stati la casa della Rimban Band Siamo la casa di tantissime compagnie Tantissimi produttori di rassegne a Bari Io oso stamattina Però credo che questa, parlo della rassegna proprio musicale Del teatro Forma sia una delle più belle Almeno guardando i nomi Livio non so se trovo conforto D'accordissimo La sticella viene alzata ogni anno E anche quest'anno ci sono Tra l'altro c'è un concerto in più rispetto al solito Sette appuntamenti Di cui ora Michelangelo ti parlerà Ma ci sono dei nomi straordinari Uno su tutti Giacob Collier Che è il fenomeno del momento Conteso in tutti i teatri In tutto il mondo Per cui noi lo avremo a Bari E lo abbiamo qui Però si parte con un altro artista Si parte il 6 novembre in realtà Sì, in realtà partiamo con Cose James Che è un altro mio pallino Sono tre anni Io cerco di portarlo a Bari E quando ti fissi? Sì, no Quello che non traspare mai Se la tirava? Qual era il problema? Il problema è che Soprattutto per le tournee americane Bisogna incastrare le date Con quelle europee E poi è complesso Il teatro Forma oggi è un teatro Diciamo ambito anche dagli artisti Cosa che non conquisti così facilmente In maniera scontata Mi piace molto il teatro Forma Soprattutto agli artisti internazionali Chiunque sia arrivato E abbia calcato quel palco Ha detto a tutti Al pubblico Ha detto questo teatro bellissimo Diciamo che siamo bravi anche ad ospitarli Ad accoglierli A farli sentire un po' A coccolarli Perché gli artisti vanno coccolati E in questo senso Ci sono anche dei ritorni Quali per esempio Ed Motta Eh sì Che torna volentieri Dopo un anno L'anno scorso è venuto qui Due anni fa Due anni fa Lui torna In realtà Perché si è innamorato di Bari Del teatro Ma in realtà Ha mangiato gli scampi Per la prima volta Invitatelo Quindi torna Io non lo volevo dire Ma è sempre per quel motivo Che poi torna È una componente importante Se volete uscire a cena Con Ed Motta Quella sera Invitatelo Compriteli dei scampi Vi garantisco che non vi conviene Invitarlo a cena Allora torna Ed Motta Torna anche Eugenio Finardi Con un nuovo progetto Tra l'altro anche perché C'è un compleanno importante Per lui Sì E anche per noi Quello che non Molti non ricordano È che il 17 dicembre È anche il compleanno Del teatro Ah quindi spegniamo Le candeline tutti insieme E in quel giorno Praticamente Si chiude il tour Musica ribelle Con la formazione Di Finardi al completo In un tour Che è andato Veramente forte Tutta l'estate Ha chiuso quasi 70 date Un po' in giro Per l'Italia E non poteva mancare Bari E non poteva mancare Il teatro forma Perché Comunque Finardi È un amico Del teatro forma È una persona Affezionata Allo spazio E Anche a me Se vogliamo Poi il 26 novembre Ci sarà Jacob Collier L'abbiamo detto prima È un giovanissimo fenomeno Fenomeno prodotto Da Quincy Jones Con dei fan Impressionanti Anche perché Lui è figlio del web Se vogliamo In qualche modo Diciamo Parte Il suo successo Parte esattamente Dal web Ma al di là di questo È polistrumentista Arrangiatore Ha una voce Incredibile Scrive benissimo Capace di fare Qualsiasi cosa L'abbiamo visto Qualsiasi cosa Addirittura Durante lo show Lui riesce a suonare Tutti gli strumenti Contemporaneamente Quindi uno spettacolo Davvero Oltre a cantare Poi c'è una reunion Una reunion Tutta italiana Diciamo che ce ne sono Un paio Importanti E questo è uno Dei motivi Per cui mi sono spinto Oltre quest'anno Perché Anche il concerto Di James Enese Con un nuovo Lavoro discografico Tra l'altro Ha appena ricevuto Il premio Tenco È una Una cosa Molto importante Ma la cosa Ancora più importante È che lui Sarà accompagnato Dalla band storica Di Pino Daniele Napoli centrale Sì Dove c'è Gigi Verienzo Al basso C'è Ernesto Vitolo Al pianoforte C'è Agostino Marangolo Alla batteria Quindi Pezzi di storia Che salgono Sul palco Del forma Con un settantenne James Enese Che settant'anni Non li dimostra Anche perché Agli albori Di Pino Daniele C'era James Enese Eh sì Non dimentichiamo Che sono cresciuti insieme Pino Daniele È stato Il primo bassista Di James Enese Nel settantotto Prima di cominciare La carriera Solista Lo ricorderà degnamente Poi abbiamo detto Avion Travel 25 febbraio Sì In un Retour Ossia Loro si sono Riuniti E hanno ricominciato Questo tour Ripercorrendo un po' Tutte le musiche Della loro carriera E quindi Anche questo È un gran Bell appuntamento Ribadivo In conferenza stampa Proprio Proprio Questo aspetto Della programmazione Cioè Il fatto che ci sono C'è un lavoro Di ricerca Anche su Su musicisti Su personaggi Soprattutto internazionali Innovativi Però ci sono Dei punti saldi Delle colonne Saldissime Della musica italiana Che abbiamo cercato Di mettere In cartellone Un tris Fatto da Finardi Senese Con Napoli Centrale E gli Avion Travel Mi sembra È una buona Bella rappresentanza Diciamo Allora Primo aprile Poi Tony Momrell Un altro nome Importante Sulla scena musicale Internazionale Della scena musicale Internazionale Anche lui Come cose James Sono Non sono Proprio Dei nomi Notissimi Però basta Leggere qualche riga Del loro Passato musicale Ci si rende conto Che parliamo Veramente di star Internazionali Personaggi È il frontman Degli incognito Dal 2002 Ma la sua carriera Comincia con Gloria Estefan Che l'ha scoperto E prosegue con Chade Prosegue con Elton John Prosegue con Whitney Houston Cioè parliamo Di personaggi Veramente importanti Chiano le spalle Scrive molto bene Arrangia molto bene Questo è il quarto Lavoro discografico Tra l'altro Anche Prodotto da Blue Dei Dell'incognito Il leader Dell'incognito Quindi il sodalizio Con l'incognito Non si scinde Ma prosegue Parallelamente In questo lavoro Anche di condivisione Nella scrittura Quindi Parliamo veramente Di una programmazione Molto varia Ampia E non dimentichiamoci Che in mezzo e mezzo Come si suol dire La ciliegina C'è anche la ciliegina C'è anche l'appuntamento Al Petruzzelli Ovviamente ormai Consueto da qualche anno A questa parte Per il Teatro Forma Che si sposta Per una data Al Teatro Petruzzelli Che è il 27 dicembre Perché ci sarà Nicolo Fabi Con il suo tour Sì Il 27 In tour nazionale Quindi Ha scelto Il Teatro Forma Sì Tra l'altro lui ama La Puglia La Puglia La Puglia Ma lui Infatti negli ultimi anni L'abbiamo visto E io lo ricordo Anche nella serata finale Del Medimex Un paio d'anni fa Esibirsi Al Petruzzelli Amatissimo Davvero A un pubblico Che lo segue tantissimo Fabi Insomma Come non amarlo È vero Vi dico intanto Che i biglietti Sono in vendita Già da un mese e mezzo E che Diciamo che Ci abbiamo Al sold out E che questa è una produzione Che come sempre Noi facciamo In collaborazione Con Bass Culture Con 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 la quale società Condividiamo Tutte le produzioni Fatte al Petruzzelli Al Teatro Petruzzelli In questi anni Allora Noi siamo Abbiamo poco tempo Livio In un minuto Devi cercare Di anche Di spiegare Qual è l'offerta Sì C'è anche nel gioco del jazz Ricordiamo La rassegna Con tanti appuntamenti Io partirei Scusate Per una questione Dall'anonima GR Assolutamente Hai ragione 15 ottobre Prima data I 15 ottobre Ritornano Al Teatro Forum Ormai la loro casa Con Un vecchio spettacolo Arriva l'ispettore È uno spettacolo Di sei anni fa Ma è uno di quegli spettacoli Loro ne hanno tantissimi In repertorio Ma questo In particolare È uno dei più curiosi E dei più belli Secondo me 15 e 16 ottobre Sono le prime due date Poi vanno ancora avanti Per altri due weekend Beh Cosa aggiungere Di Dante Marmone Tiziana Schiavarelli Ringraziamo Federico Semplice Per supportarci Ormai al format Ecco siamo contenti Insomma Che il format Si è diventata La loro casa Perché Anche il pubblico Li ha ritrovati Lì Insomma Si è creata Una chimica Che continua ancora E quindi siamo felici Di poterli ospitare Poi torneranno Tra l'altro A dicembre Con il loro ultimo spettacolo Ultimo In ordine cronologico Il Fantasma E poi veramente L'offerta del Forma È vastissima Tutto il programma Lo potete Ovviamente Controllare Verificare Sul sito Teatroforma.org Giusto Sono anche le altre Rassegne Sorrisi e canzoni Di Fabiano Marti Nicolaus Production Nel gioco del gesto L'abbiamo detta Risollevante Risollevante Insomma Spazio alla comicità Un appuntamento Extra Che mi preme ricordare E il 27 novembre Abbiamo un doppio spettacolo Con Ettore Bassi Protagonista Il sindaco pescatore Vi garantisco Dopo averlo visto Lo spettacolo Mi sono veramente Emozionato È un racconto Di una storia vera Ettore Bassi È un grandissimo amico È anche Un grandissimo attore Vi consiglio Di venire A vederlo Perché Ne vale la pena Allora Tutto questo È molto altro Sul sito Ma ovviamente Tutto questo È molto altro In scena Al teatro Ci sono anche I laboratori teatrali A cura di De Di Rutigliano Per tutti E quest'anno Anche il laboratorio Di cinema Con grandi nomi Del teatro Allora facciamo una cosa Visto che le cose Sono tante Dobbiamo parlarne Io devo restituire La linea alla tv Necessariamente Ringraziando Federico Semplice Però noi Non stop Continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net Quindi se volete Scoprire le altre offerte Del teatro forma Continuate a seguirci A seguirci lì Allora Dicevamo Un'altra novità Diciamo Tra le tante novità Di quest'anno E teatro forma L'impresa Che cosa In che cosa consiste C'è un team Di professionisti Tra cui Fabiano Marti L'amico Attore Regista Autore E Laura Conte Psicologo Del lavoro Che in pratica Hanno confezionato Un prodotto Ad hoc Per le aziende Per migliorare La capacità Relazionale Dei venditori Ci sono una serie Di argomenti Sui quali È possibile Fare Questi corsi Il tutto Viene fatto Attraverso Il metodo Del teatro Della rappresentazione Teatrale Una cosa innovativa Per Bari In realtà Già esiste Nel nord Italia Ci sono esempi Molto belli Soprattutto a Bologna Ed è la prima volta Che a Bari Un teatro Proponga Un prodotto Di questo tipo E questo è molto bello Lo diciamo anche Magari a chi ci sta ascoltando A chi Insomma È una cosa curiosa Interessata Che a corsi Che hanno a che fare Col teatro Ma non solo Anche a posizioni Di leader Insomma Con Laura Conte Che è una psicologa E psicoterapeuta E Fabiano Marti Si copre Un ampio spettro Di attività Che riguardano il teatro Perché il teatro Non è soltanto andare in scena Non è soltanto Studio di quello Che c'è dietro Ma è davvero Tante cose Il teatro Aiuta a vivere Diciamolo Eh sì È bene dirlo E su questa massima Di Livio Costarella Che non è mia Ma insomma Ma comunque Una grande verità È vero Una grande verità Allora Tutto questo e molto altro In scena Sul palco del Teatro Forma Ovviamente Ve lo ricordo Tutte le informazioni Su www.teatroforma.org Potete anche Inviare una mail A info Chiocciola Teatroforma.org Ovviamente c'è il botteghino Aperto da che ora A che ora Dalle 10 Alle 18 Tutti i giorni Fino al venerdì Mentre il sabato E la domenica Il teatro è aperto E la biglietteria Funziona per gli eventi In programma In ogni caso È possibile Acquistare biglietti Sul circuito Booking Show Quindi anche da casa Oppure in tutti i punti Vendita Booking Show Per qualunque Tipo di informazione Oltre al sito C'è la pagina Facebook Del teatro Che è costantemente Aggiornata Sugli appuntamenti In programma Perfetto Allora non mi resta Che dire Buona stagione Buona stagione 2016-2017 E incrociamo E incrociamo le dita Ci sono tante parolacce Che si possono dire Ci vediamo in teatro Però ci vediamo in teatro Ci vediamo in teatro E sì Vi aspettiamo Speriamo di consolidare Il successo Degli anni precedenti Noi ce la mettiamo tutta Vi aspettiamo Si batte il record Di spettatori Quest'anno Grazie mille A Michelangelo Busco Direttore artistico Del teatro forma Grazie a te Barbara Costarella Preziosa presenza Ufficio stampa Del teatro forma Io A noi Anzi noi Andiamo in pausa Ma torniamo tra pochissimo Con gli appuntamenti Della settimana Perché sono tantissimi Io non vedo l'ora Di annunciare Quelli del teatro forma Perché non vedo l'ora Che questa stagione cominci Perfettamente sbagliato Nesli